La cultura eliotararico, l'importanza per un evento di questo tipo per la città di Lissone in un periodo comunque abbastanza lungo quest'anno? È sempre quello, la cultura è conoscenza, la cultura fa crescere una comunità per cui Lissone non ne ha bisogno perché è una città che legge, però a maggior ragione si ribadisce questo concetto. Ok, è in tanta importanza anche alla cultura per i giovani, quanto è importante appunto diffondere la cultura anche verso i più piccoli e la lettura? La lettura e la cultura quindi anche per i più piccoli è salvaguardata da una programmazione molto ricca di laboratori che attraverso il gioco cercano di far conoscere la lettura come strumento di crescita.